Ben ritrovati, vi presentiamo le previsioni meteomarine per il fine settimana del 19-20 dicembre. Cominciamo dalla giornata di sabato che sarà caratterizzata da venti di provenienza nord-occidentale di intensità moderata sulla costa adriatica, più deboli altrove. Copertura nuvolosa significativa, specie nella parte meridionale della regione, ma con precipitazioni assenti o scarse. Le temperature massime saranno comprese tra gli 11 e i 14 gradi e le minime tra i 3 e gli 8 gradi. Sotto l'influenza del maestrale, il mare adriatico e il canale d'Otranto saranno mossi con altezza d'onda significativa fino a circa un metro, poco mossi il golfo di Manfredonia e la parte settentrionale del golfo di Taranto. La temperatura superficiale del mare lungo le coste pugliesi sarà di circa 16-17 gradi, tranne nel golfo di Manfredonia, le cui acque potranno essere di circa 2 gradi più fredde. La corrente dell'adriatico occidentale seguirà l'intera costa pugliese, dal Gargano fino a capo Santa Maria di Leuca, dove si fletterà, risalendo per un tratto la costa ionica. Nel mezzo del canale d'Otranto, più verso la costa balcanica, un altro flusso d'acqua superficiale scorrerà in direzione settentrionale. E passiamo alla giornata di domenica 20 dicembre. Rispetto alla giornata di sabato, la ventilazione sarà con direzione variabile. L'intensità del vento si attenuerà a partire dalla costa adriatica, copertura nuvolosa debole tranne nella parte centrale della regione e comunque con assenza di precipitazioni. Le temperature seguiranno lo stesso andamento della giornata di sabato, moto ondoso in attenuazione su tutti i mari, che saranno da poco mossi a calmi. Rispetto a sabato, nessuna variazione significativa per la temperatura superficiale del mare, sempre fra i 14 gradi del golfo di Manfredonia e i 17 del golfo di Taranto, e per la circolazione superficiale, sempre caratterizzata dalla corrente costriera dell'Adriatico occidentale. Terminiamo con un esempio di profilo verticale della temperatura. Circa 10 miglia a largo di Santa Maria di Leuca, il profilo mostra un'acqua alla temperatura di oltre 17 gradi centigradi alla superficie e nei primi 50 metri, ed una diminuzione di temperatura, fino a 14,5 gradi centigradi, ma solo alla profondità di 400 metri. Il team di Che mare farà in Puglia vi invita come sempre a scaricare l'applicazione Sea Condition disponibile, sia su Google Play che su App Store, per approfondire le nostre previsioni. E vi augura un buon fine settimana. Grazie a tutti.